Ciao a tutti e bentornati su Pur Kitchen, io sono Luca Di Martino, il vostro chef. Oggi, in questo freschissimo video, voglio farvi vedere come fare un antisettico naturale utilizzando un macchinario di quelli incredibili. Si chiama Vaqua Chef Cube. È un sottovuoto, ma non è un sottovuoto qualsiasi, è il sottovuoto. Non vi rubo altro tempo, sigla è come al solito. Andiamo! Ok ragazzi, mi metto qui un po' comodo per parlarvi in maniera molto confidenziale di questo macchinario. Questo si chiama Vaqua Chef Cube, totalmente italiano, esteticamente anche molto bello, devo dire, il quale principalmente come funzione ha quella di sottovuotare. Ma come vi ho detto nell'intro, questo non è un sottovuoto, ma è il sottovuoto. Questo il è derivato da che cosa? Da, vi faccio vedere da qui, tutte queste mini funzioni. Praticamente si presenta così. La cosa meravigliosa che mi colpisce subito è che il coperchio è come le portiere delle Bentley. In dotazione ci vengono dati anche dei sacchetti, con un comodissimo portasacchetti. Quindi voi se lo avete qui, comodo, non avete le rotture di balle, di sacchettini in giro e company. La peculiarità di questo macchinario è esattamente questa, il fatto che lavori in profondità. Quindi ci consente di mettere dentro baschette per fare le nostre lavorazioni. E voi mi direte, ma Chef, se io devo sottovuotare un pezzo di parmigiano o un formaggio, come faccio visto che è così profondo? Non c'è problema. Abbiamo in dotazione questo, vedete? Ma vediamolo meglio. Questa è una staffa che si tiene all'interno. Questo magnete serve per inserire il sacchettino. Ok? Io qua l'ho messo in un sacchettino dello zenzero. Lo metto qui. Ok? Potrei anche infilarlo. Ma se io avessi dei sacchetti più piccoli, con un liquido dentro, quindi con del peso, il magnete cosa mi fa? Mi fa da sospensorio per questo alimento. Di conseguenza sono più comodo nell'inserirlo nell'apposita zona saldatura. Quindi io vado a chiudere e mi scelgo il mio programma. Per finire, questa serve per sottovuotare le bottiglie. Vi faccio vedere al volo. Quindi togliamo la barra che si scalda per saldare. Abbiamo questo beccuccio. Lo infiliamo nel suo apposito innesto. E a questo punto abbiamo queste due parti che si uniscono e diventano per chiudere le bottiglie. Ovviamente non bottiglie gasate. Ovviamente completamente lavabile, però come dicono qua, attenzione a non usare cose a base di alcol. Ok? Perché lo rovini. Per il resto, adesso possiamo parlare dell'interfaccia. Questo è il menu iniziale. Qua abbiamo la stellina, che è le mie ricette. Cosa vuol dire? Che noi possiamo inserire tutto il nostro recettario. Poi abbiamo marinatura. Quindi lui ci chiederà che tipologia di alimento è. Ricetta, le istruzioni. E poi qui si passa alla parte un po' più interessante. Qui possiamo notare che abbiamo un ciclo e delle sospensioni in secondi. Questo cosa vuol dire? Che praticamente noi partiamo con la ricetta e gli mettiamo tre per 40 secondi. Quindi lui andrà tre volte in atmosfera per poi trattenere quella sospensione per 40 secondi. Questa cosa servirà a infondere all'alimento tutto quello che noi gli abbiamo inserito. Quindi le bacche di ginepro, il prezzemolo, la menta, tutto quello che volete. E lo potete fare con tutte le cose. Cioè, di conseguenza, no? Per il settore del bar. Fare la vodka alla fragola. Voi potete farlo con questo perché lo fa a freddo. Quindi non toglierà la parte alcolica e non andrà a inficiare in nessun modo sulla base che voi state usando. Sia alimentare che liquida. È incredibile questa cosa qui. Adesso, senza stare a troppo entrare nel dettaglio, vi faccio vedere una ricetta. Io non farò nulla. Farà tutto lui. Ovviamente questa sarà la prima di tantissime ricette. Però ho deciso di fare questo antisettico per farvi capire realmente il potenziale di questo macchinario. E poi, la stessa cosa, la andremo a riportare con alimenti, pesce, carne e tutto quello che è. Ma volevo fare l'esordio così. Quindi, adesso concentriamoci sul macchinario. Gli ingredienti di cui abbiamo bisogno oggi per il nostro antisettico naturale sono menta freschissima, zenzero, lemongrass, che è la radice della citronella, lime e miele di acacia. Perfetto. Vi sembrerà assurdo, ma la ricetta durerà 30 secondi. Iniziamo con il prendere una ciotolina, nella quale versiamo dentro circa due cucchiai di miele. Andiamo subito ad aggiungere un po' di acqua, ok? Più o meno sono tre bicchieri, per intenderci. Sei foglie di menta e le mettiamo all'interno. Prendiamo la lemongrass, usiamo il baccello un po' più grande. E lo andiamo a tagliare. Mettiamo dentro. Prendiamo il lime, lo massaggiamo. Massaggiandolo sarà molto più facile da spremere, perché diventerà più morbido. Tagliamo a metà e lo andiamo a spremere dentro. Una volta spremuto, lo lascio dentro tutto. Passiamo a prendere lo zenzero. A me piace molto, quindi ne uso un pezzo abbastanza grande, perché poi tanto bisognerà andare a togliergli la buccia. Benissimo. Adesso mettiamo tutto insieme. Che bello, eh? Adesso vedete che c'è un po' di sedimento del miele. Lo andiamo a muovere un pochino, così si scioglie un po'. Adesso quello che facciamo è togliere la vaschetta che c'è in dotazione nel macchinario e vuotare tutto all'interno. Come vedete non ci sono più sedimenti e adesso avrà la magia. Ok, 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 scusate, scusate, scusate. Ho bisogno di un attimo di attenzione. Per favore, attivate la campanella delle notifiche e iscrivetevi al canale, perché più del 70% di voi che guardate i video non siete iscritti al canale. Non va bene. Tastino è gratis, mi date una mano. E soprattutto venite a buttare un occhio sul mio Instagram. Iscrivetevi lì, seguitemi lì, perché lì vedete cose che qui non ci sono. Adesso possiamo andare avanti con il video. Mettiamo qua all'interno. Andiamo a selezionare il programma. E a me serve l'infusione. Qui gli do tutto ok perché stare a mettere il programma adesso non avrebbe molto senso. Vedete che se schiaccio qua cambia e mi chiede se voglio usare un sacchetto oppure la vaschetta. A noi va bene la vaschetta. Scegliamo quante pause, ne facciamo fare 5, per 25 secondi l'una. Lui vedete ha preso il comando, chiudo, test, lui mi fa il riassunto qui e a questo punto schiaccio. E il macchinario si è chiuso. Guardate che sta iniziando tipo a bollire. Abbiamo gli ultimi 25 secondi di trattenimento d'aria. E poi siamo pronti alla magia. Perfetto. Come vedete si è sollevata un pochino. Wow. C'è un profumo che è unico. Vado a versare. Vedete anche il colore dell'acqua come è cambiato. Ok. Questo è il nostro risultato finale. Adesso andiamo all'assaggio. Vi spiego due cose. Bene ragazzi. Sono molto contento che il mio sperimentino sia compiuto così facilmente. Allora. Per me non è un gusto nuovo perché è una cosa che in genere faccio già. E però devo dire che è incredibile perché io genericamente questa ricetta la faccio a caldo. Quindi stesso identico procedimento però riscaldandola dentro un pentolino. Mi avevano detto che questo macchinario poteva fare queste cose ma ero un po' scettico. E adesso che ho provato a fare questa cosa è incredibile perché ha tutte le note identiche che se l'avessi fatta caldo però ha mantenuto tutte le proprietà nutritive. E' questo che è imbarazzante no? Perché ovviamente quando superi una certa temperatura tutto quello che c'è di buono all'interno di un aroma, di una verdura evapora, va via. Si brucia, si perde. Così invece rimane tutto qui. Ovviamente ragazzi è normale, potete farlo a caldo. Questo antisettico nasce per i periodi invernali. Quindi se avete un po' di mal di gola vi può aiutare ad alleviare questo sintomo. Vi consiglio di provare. Adesso ci spostiamo di là che vi spiego una cosa perché c'è una sorpresa. State collegati. Ragazzi, grazie mille per aver visto il video fino a qui. Io vi ricordo che insieme a Vacqua abbiamo deciso di farvi un regalo. Qua sotto in descrizione troverete la mail per il contatto diretto dell'acquisto del macchinario. Anche loro quest'anno hanno deciso di farvi un regalo e se volete potete acquistare questo prodotto per non sprecare più il cibo. Rimanete collegati perché faremo un sacco di ricette con l'utilizzo di questo macchinario. E come al solito, se il video non ti è piaciuto, mastica. Ciao!